Adesso parliamo di sanità, perché inquinamento e fumo passivo sono due componenti significative del quadro clinico di una terribile patologia, qual è il tumore al polmone, che anche nel nostro paese colpisce un numero molto elevato di persone e non necessariamente di fumatori. Per venire incontro all'emergenza evolvono anche le terapie. A spiegare come, ascoltiamo un esperto dello Iov, l'Istituto Oncologico Veneto, con sede a Padova. Nel nostro paese il tumore al polmone è la prima causa di morte tra gli uomini e la terza tra le donne con circa 34.000 persone che si spengono ogni anno per questa patologia, per lo più individuata quando si presenta allo stadio avanzato. Oggi la medicina propone l'immunoterapia incrociata alla chemioterapia, con l'obiettivo di allargare il trattamento ad un numero sempre più importante di pazienti. L'analisi del professor Pierfranco Conte, direttore dell'Oncologia Medica 2 dello Iov, l'Istituto Oncologico Veneto di Padova, nonché coordinatore della rete oncologica del Veneto. La maggioranza dei pazienti con tumore al polmone viene purtroppo diagnosticata con una malattia già avanzata, quindi non operabile. Anche in questi casi, per fortuna, oggi ci sono stati dei grandi progressi grazie all'immunoterapia. Quindi questi farmaci che sono in grado di riattivare il sistema immunitario e renderlo nuovamente in grado di combattere le cellule tumorali. Questo ha consentito di ottenere dei grandi progressi. Ci sono pazienti che hanno prolungamenti della sopravvivenza molto rilevanti e quello che si sta cercando oggi di fare è di aumentare sempre di più la percentuale di pazienti che beneficiano da questo trattamento, perché purtroppo non tutti i pazienti ne beneficiano, e soprattutto anche di mantenere l'effetto positivo dell'immunoterapia il più lungo possibile. C'è un marcatore che si chiama PDL1, è la sigla, che sostanzialmente ci consente di misurare qual è la quantità delle cellule del sistema immunitario che sono presenti all'interno del tessuto tumorale. E si è visto che basandosi su questo marcatore è possibile identificare quei pazienti che hanno una più elevata probabilità di ottenere una risposta positiva con la sola terapia immunologica. Come applicare anche nel nostro paese il protocollo? A livello europeo esiste un'autorità, la European Medical Agency, che lo regolamenta. L'autorità regolatoria approva un trattamento, può stare singole autorità nazionali a rimborsare il trattamento, cioè trovare i fondi per rimborsare il trattamento. Il processo è oramai in fase conclusiva in Italia, quindi a brevissimo i pazienti italiani potranno accedere coperti dal Servizio Sanitario Nazionale a questo trattamento.